Namaste, buongiorno a tutti. Benvenuti alla settima ed ultima lezione per i nuovi membri della LifeWay. Se avete un taccuino o un quadernino vicino e una penna vi tornerà utile, capirete il perché. Iniziamo poi. Quindi mettete un attimo in pausa il video se dovete prenderlo e poi riprendiamo. Eccoci qua allora. Benvenuti a tutti. Oggi faremo un autodiagnosi. Che cos'è che l'X39 ha fatto per noi? Quindi fatevi queste domande. Qualità del sonno? Notate che magari sì, è più facile addormentarmi. Oppure dormo un po' più a lungo del solito. Tipo magari ad esempio mi sveglio alle sei e mezza. Adesso invece dormo anche fino alle sette, sette e un quarto. Oppure di notte tendo a svegliarmi sovente per andare in bagno. Magari mi sveglio meno sovente oppure faccio meno pipì di notte ed è più facile riaddormentarmi. Chiarezza mentale. Magari riesco a concentrarmi più facilmente o riesco a concentrarmi più a lungo. Soprattutto dopo mangiato o la sera. O trovo che ho più idee, più ispirazione durante la giornata. Invece parlando di energia e vitalità. Magari noto di avere più energia. Riesco a stare più, sveglio più facilmente. Ad esempio devo fare meno penniche. Stamina, energia. Riesco a camminare più a lungo. Oppure se ho un tram o un treno o un autobus che sono in ritardo. Riesco a correre per arrivare in tempo senza affaticarmi più di troppo. Oppure riesco a fare una routine di esercizio fisico più facilmente. Parlando dei tempi di recupero magari trovo di aver meno dolore fisico oppure invece di 3-4 giorni di recupero dopo una certa attività fisica ci metto uno o due giorni per recuperare. Forza muscolare. riesco a sollevare i miei nipotini o i miei figli più facilmente. Riesco a sollevare oggetti più pesanti. Magari noto più flessibilità anche nel quotidiano o nello sport. Magari ad esempio sono una persona che gioca a golf e noto che lo swing è migliorato. Parlando invece di mobilità. Sono una persona che riesco a camminare più velocemente. Riesco a fare le scale più velocemente e con più disinvoltura. oppure sono una persona che ci mette sempre un po' di tempo ad alzarsi e a sedersi. Invece adesso riesco ad alzarmi e a sedermi con più facilità, con più grazia. Qualità della pelle. La gente mi dice che ho la pelle che brilla di più, è più chiara, meno imperfezioni nella pelle. Oppure parlando di sensazioni del benessere. Mi sento più calmo, più pacifico, ho più sensazione di gratitudine verso me stesso e verso gli altri. Parlando invece di dolori. I miei dolori soliti alla spalla, alla schiena, ginocchio, alla caviglia, sono diminuiti. Parlando invece di infiammazione. Quando parliamo di infiammazione tipicamente questo si manifesta anche nelle spalle e nel collo. Quindi magari noto che ho più facilità a girare la testa. Le spalle sembrano più morbide, diciamo, meno rigide. Non ho più bisogno di farmi fare tanti massaggi o sessioni di fisioterapia perché non tendo a bloccarmi o a sentirmi così rigido. Mal di testa. Sono una persona che soffre di mal di testa, invece la frequenza è diminuita, oppure la durata e l'intensità dei dolori o delle micranie sono diminuite. Oppure magari prendevo sempre tanti farmaci, adesso per il mal di testa ne prendo di meno o li ho addirittura eliminati. Cambi di flussi mentali. Sento più calmo, più positivo, più allegro, sono più in sintonia con chi sono e non macino troppo sul passato. Parlando invece della struttura del viso, noto che ho meno borse sotto gli occhi, ho meno scuro sotto gli occhi, ho meno rughe e linee, diciamo, sulla pelle. Oppure magari noto che sulla pelle ho meno impurità, diciamo sulla pelle, nei macchie dal sole o da altri fattori. invece per le persone che hanno cicatrici, noto che le ferite si chiudono più in fretta o noto che le vecchie cicatrici stanno migliorando notevolmente, diventano più piccole oppure la loro scolorazione è meno forte, assomigliano più al resto della pelle, eccetera. Questi sono i tipi di cambiamenti, che si potrebbero vedere durante il primo mese. Però magari alcuni di voi che stanno guardando questo video dicono, Francesco, io non ho visto nessuno di questi cambiamenti, ma neanche uno. Prima di tutto, se fosse così, dispiace molto a me, personalmente, perché se questo prodotto vi è arrivato è perché io ci tengo a voi, oppure la persona che ve l'ha data e ha conosciuto tramite me questa realtà, questa persona ci tiene molto a voi. E quindi per me, eventualmente per la persona che ha fatto da tramite, è un dispiacere, nel senso che lo si fa per l'amore degli altri e per voler vedere gli altri stare bene, insomma. E quindi comunque non vi preoccupate, anche a livello finanziario, come forse ho già accenato in passato, c'è sempre l'opzione del rimborso al 100% entro il primo mese per il primo ordine della lightweight. Quindi magari non siete ancora arrivati alla fine del primo mese, ma magari una settimana, due settimane. Quindi continuate ad usare il prodotto, perché avete comunque questo margine di un mese per prendere questa decisione, perché l'azienda è molto generosa. Quindi approfittatene della generosità, andate a fondo per un mese, con tutti gli alti e bassi possibili. Se comunque alla fine non siete contenti, contattate il vostro sponsor, cioè me o la persona che vi ha introdotto a questo prodotto, per il rimborso, oppure scrivete un'email direttamente alla lightweight, vi posso dare l'indirizzo, altrimenti si trova sul loro sito web, e chiedete semplicemente il rimborso e date il numero della fattura. Se invece siete tra le tantissime persone, che è il 95% o in più, che non chiede il rimborso, e notate invece alcuni o tanti di questi cambiamenti che abbiamo appena visto insieme, quindi dal vostro pacchetto di base, magari avete preso un pacchetto bronzo per un mese, fate un upgrade, andate al pacchetto argento, silver, che è per tre mesi, quindi aggiungete due mesi di X39, oppure dall'argento andate al pacchetto oro, da silver a gold, perché se riuscite ad andare dai 30 giorni ai 90 giorni, è possibile notare molti miglioramenti in più, perché? Perché varie parti del corpo hanno fasi di recupero diverse, o di miglioramento diverso, di ringiovanimento diverso. Ad esempio, la pelle ci mette circa un mese, anche i polmoni, il fegato invece ci mette almeno 5 mesi, quindi insomma, questi sono alcuni esempi, se ne possono trovare online facilmente per tutti gli altri organi anche, quindi capirete che ci vogliono almeno 3 mesi per vedere dei grandi risultati. Dopo i 90 giorni, vi incoraggiamo a guardare altre opzioni dell'azienda LifeWay. Guardiamo al costo, ad esempio, del prodotto. Tra il costo della produzione del prodotto e il prezzo di vendita, il margine dell'azienda è abbastanza buono, perché è soprattutto la proprietà intellettuale e i brevetti dell'azienda che sono quelli di maggior valore, però la produzione stessa del cerotto non è molto cara. E quindi, col fatto che l'azienda non fa pubblicità, non paga nessuna celebrity, a chi dà questi profitti, ai distributori, come me stesso e tanti altri. Quindi considerate questa opzione per voi stessi. Se condividete ad alcuni amici e siete interessati, magari voi condividete e basta, va benissimo, ma se voi volete condividere e ridurre il costo dei cerotti, si può fare. Se volete avere i cerotti gratis, si può fare. Se invece volete una piccola forma di reddito in più, al vostro reddito normale, si può fare. Se invece volete esplorare a fondo questa opportunità lavorativa, anche c'è un mondo da scoprire. Insomma, per ognuno di queste opzioni, fatemi sapere che vi spiego in maniera più dettagliata. E per chi volesse fare appunto il business a tutto spiano, ci sono queste varie fasi che possiamo fare assieme. E quindi come usare il back office online, come condividere il piano compensi, come fare le dimostrazioni online o dal vivo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi grazie a tutti. Avete completato queste sette video-lezioni per i nuovi membri. Spero vi siano interessate e piaciute. Se appunto avete notato cambiamenti e siete contenti di continuare, fatemelo sapere. E se gradite anche condividere i cambiamenti che avete notato, cioè le testimonianze per iscritto o con una nota vocale, ne sarò molto molto lieto, perché questo è l'unico modo in cui possiamo far conoscere il prodotto agli altri con o senza l'intenzione di fare l'attività della LifeWave. E se poi preferite che venga condivisa in maniera anonima la vostra testimonianza, nessun problema. Se invece mi dite, Francesco, io non la voglio condividere a nessuno, solo a te, perché mi fa piacere che tu lo sappia, com'è andata per me, va anche benissimo. Se avete foto, per favore, fate foto almeno una volta al mese. Se non volete mandarle direttamente a me, vi chiedo di, per favore, condividere le foto con un caro o una persona, insomma, nella vostra cerchia intima. Così, in caso di qualche problema col vostro telefonino o fotocamera, c'è un piano B, insomma. Ci sono delle foto che sopravvivono. E se invece non avete appunto notato nessuno di questi cambiamenti e volete gradire il rimborso, per favore fatemelo sapere. Per il primo ordine LifeWave si può avere un rimborso entro i 30 giorni, quindi fatemelo sapere e poi vi spiego i dettagli. Grazie, grazie di questa opportunità per contribuire al vostro benessere. Ne sono molto lieto e non è una cosa che prendo per scontato. Grazie, grazie di cuore. Grazie a tutti.